E' col destro! Che gollo! Colotto! Che gollo! Col destro! Mamma mia! Che gollo! A shot in the dark, a past, lost in space, where do I start? In maia blu, in Kilders, a città dei sei giocatori, un saluto per il pubblico al Kennedy Stadium, e ora il saluto fra le due squadre. Ora ci sarà il tocco fra i due capitani, capitano dei Kilders, E' il capitano dei Red Devils. Allora, solo i capitani parlano con me, la testa, nel senso della civiltà. Così, ci facciamo scegliere. Testa o cruci? Uscito o cruce? Uscito o cruce? Palla. Il campo questo va bene? Bene, va bene sto campo. Va bene, va bene. Ok, possiamo iniziare? Forza, certo. Inizio, primo tempo, terza giornata. I torni di indietro, si affrontano i Kilders in maglia blu contro i Red Devils in maglia russa. Stanno ancora sullo 0-0, seguiamo tutto il primo tempo. Bravo. Bravo. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti